... di in dios staterina aeroporti sia 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 in poi le malattie ci sono queste malattie che si a ah ah un intergiurata ah 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 ahahahahahahahahahahahhahahhahahahahah Uffahahahahahhehah Dio nel stacco l maths è l'ultimo Dio ha quelli più forti Meglio quei scherzi Ok l'remmo del rivolgo dai GG Ok venco Non ci vede curate Voglio Non mi costruisce Che va a star Che va a star e quindi io ho visto che non si intende allora cosa si intende che il copercio diangolare si intende il copercio che veniva per il piano e non si intende e non si intende ma si intende